ingredienti dosi per quattro persone 400 grammi di riso una cipolla burro olio vino bianco brodo 2 mele a cibule 50 grammi di fontina un bicchierino di marsala preparazione soffriggere la cipolla tritata con una noce di burro e poco olio unire il riso e farlo tostare spruzzare di vino e portare a cottura unendo poco alla volta il brodo a metà cottura unire la polpa a dadini delle mele la fontina a lamelle il marsala il piatto è pronto buon appetito